Ecco lo stivello Tepistello ragazzi, buona serata a tutti, ben ritrovati nel canale Un saluto a tutti gli iscritti e a tutti quelli che mi seguono Stasera faremo il revival del World of Legends Game 2 Quindi tutto d'un fiato, tutti i livelli in una volta Vediamo quante volte riesco a fare stavolta L'1 è più facile, l'2 sarà dura Ma con un complotto al mio fianco, tutto è possibile Si parte ragazzi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti